Le classi della terza sezione dell'infanzia, quarta e quinta primaria, seconda e terza secondaria di primo grado dell'Istituto Compranissimo San Biagio sono stati i protagonisti del progetto Continuità nel contesto della giornata mondiale dell'alimentazione. Un incontro dibattito è infamezzato dal recito degli stessi alunni e canti sui temi attuali scottanti del clima che cambia ed è mutamente delle abitudini alimentari a livello planetario. Alunni che si sono quindi confrontati su grandi temi come appunto la fama nel mondo e l'emergenza alimentare e sanitaria per costruire la generazione zero, questo è il messaggio in pratica proposto dagli alunni con la possibilità e anche la ricerca di adattare l'agricoltura al cambiamento climatico promuovendo una maggiore consapevolezza verso le popolazioni in difficoltà ma garantendo sicurezza alimentare e anche dieta nutriente per tutti. Alla fine il messaggio che è scaturito è stato quello che si può eliminare la fame nel mondo e diventare la generazione dalla fame zero. Per riuscirci però è stato ribadito dai relatori, bisogna lavorare tutti insieme. Per riuscirci però è stato ribadito dai relatori, bisogna lavorare tutti insieme. Per riuscirci per riuscirci per riuscirci per riuscirci per riuscirci per riuscirci.